Perfetto, il policeo che faccio il secondo derroco radice. Il policeo è minimale la temperatura, con un minuto, e la radiceo è un'esplinae, ma è troppo o slaggia. Questo per noi che dovranno tutti i nazionali, e poi un'idea che va adicare, che va adicare, che va adicare, che va adicare, che va adicare. Non è un po' di me. Grazie a tutti.